ben ritrovati a tutti carissimi amici chitarristi questa sera sono in compagnia di questa bella dobro chitarra a scala veramente corta molto particolare nella sonorità nel senso che potremmo definire una via di mezzo tra una chitarra acustica di piccola taglia e con delle sonorità che vanno e richiamano quelle del banjo l'ascoltiamo con il microfono davanti in flat quindi equalizzazione assolutamente piatta con il piezzo elettrico sono entrato su head rush sempre con equalizzazione piatta adesso andiamo a miscelare i due soni assieme ed eccoli qui adesso andiamo ad escludere il microfono davanti quindi sentiremo solo il suono del piezzo elettrico benissimo scrivetemi nei commenti come vi sembra il suono di questo strumento io lo ritengo veramente interessante se il video vi è piaciuto cliccate un grandissimo like e non dimenticate di iscrivervi al canale è assolutamente gratuito noi ci vediamo alla prossima ciao